Ciao, sono Gwenda e sono tra i 25 semifinalisti del Campiello Giovani, per la seconda volta in realtà, perché anche l'anno scorso ero arrivata in semifinale e sicuramente è una grandissima soddisfazione, perché poi alla fine scrivere è la cosa che mi piace più in assoluto fare e quindi sono momenti belli in ogni caso. Poi c'è anche un altro motivo per cui ho partecipato anche quest'anno, ovvero che l'anno scorso a Verona ci diedero una penna in omaggio, bellina da morire, con scritto premio Campiello e l'ho persa, non so come ma l'ho persa e quindi ho detto ripartecipo, guarda se mi rendono la penna che questa... Comunque no, a parte gli scherzi, sono molto contenta e ci vediamo quindi a Verona presto.